bella a tutti siamo tornati in un nuovo video di fifa 16 rotto di vision one e come potete vedere sono riuscito finalmente a completare al cento per cento la squadra spagnola ci presentiamo con bravo godin mascherano in difesa carval terzino destro giordi alba centrocampo abbiamo rachitic coche isco molto buono alla destra ronald merda duran alla sinistra colombianca e attaccante centrale antonino griezmann e quindi possiamo andare a rompere curi alle persone e sono un po raffreddato come sempre pianazze fede il grande 0 4 bene e dico di cominciare subito questa partita e lui si presenta con la serie a con mangiukic di bala if quindi stiamo proprio benissimo e mangiukic con 84 t over all if andiamo a vedeva dobbiamo vincere ragazzi andando in seconda divisione e che palle c'è vabbè va fifa fa questi regali purtroppo quindi ok antonino antonino griezmann griezmann antonino mamma mia mamma mia che sei mangiato eeeh si me ne mi ha ucciso poche va bene tirai tonino trova la finta tonino eeeh poche mi stava morendo non so se sei ripreso eeeh si va eeeh si un altro regalo eh dagliela a colombrianca che prende mamma mia colombrianca colombrianca griezmann matt waa ti vabbè aaaaa E vabbè Cioè proprio così eh Prendiamo anche il secondo gol ragazzi Non va bene, non va assolutamente bene Eh che palle E dai che palle E ha fatto il gol della merda Di tua madre Ma vaffanculo Ma vaffanculo Mamma mia raga Mamma mia Che il mio portiere non la blocca mai Ecco riguardiari vediamo Che gol di merda Bene così Si perde 3 a 0 ragazzi E tra poco comincia a smadonare Mettiamoci in offensiva Dai Questo non so giocare Però giustamente Shoppando Scendo il shoppone del cazzo Giustamente FIFA ti fa i regalini Ed è giusto così Si vabbè Si vabbè Buongiorno Si vabbè Cioè così ragazzi Cioè così Vabbè Ragazzi si chiama Si chiama qua Spagnola Andiamoci a vedere la seconda Si ho capito Si si è un gol di merda Quindi quittiamo E andiamo alla prossima partita Ok Chi ci mettiamo al posto di Koke A questo punto Ci mettiamo Pjanic No Tengo Kaleon Se non mi sbaglio Che potrei mettere Vediamo un po' Scambio giocatore Col club Kaleon Che spagnolo Vorrebbe darmi Un pochito Di intesa Si caldevano pure Vuole il contratto Vabbè Vaffanculo Ci metto Vital Tanto c'ho Vital in prestito E non sta Mi salta l'intesa Ma non mi interessa Andiamo avanti Tanto ormai Si è capito Che mi sa Mi sa Che FIFA Fin quando Non shoppi In prima divisione Ci si arriva Col cazzo E quindi Andiamo a vedere un po' Dai Ovviamente qua Partono I porchi di Si sta cercando L'avversario Questo è uno Che si chiama Bobby Bianconero Azzurro Ok E questo C'è una squadra Di tutti I brasiliani Non so Chi è quel Dispensore Del Napoli Però Tutti i brasiliani Tutti i brasileo Eh a Marsello A David Luiz E tutti i brasiliani Si comincia E' una squadra Ma dove Ma dove Ma dove E glielo stavo Per parare La mia batteria Si sta Per scaricare Che giustamente Io lo stavo anche Per parare Ragazzi Vabbè Siamo appena Cominciata La partita Bene o male Io sono sempre La fortuna Di cominciare Svantaggiato E poi ovviamente Avantaggiarmi Pian piano Mamma mia Quel Vidal Mamma mia Arturo Arturo Vidal E si pareggia Si Vabbè Dai Cioè Con l'hug Con Oh Albirro Albirro Eh Ok Eh Ok No Dalla Va raga Abbiamo perso La connessione Con il nostro Avversario Ci ha fatto Quittare Ci ha fatto Quittare Vediamo un po' Se ce l'ha data No Partite rimaste 3 Quindi No Non ce l'ha data Eh Ne vinta Ne persa Ne pareggiata Non ce l'ha contata Vabbè Andiamoci a fare La prossima partita Vabbè Andiamo a farci Sta Partita Che l'altra Ce l'ha data Annullata Purtroppo Il nostro Avversario Ha perso La connessione Perché Giustamente Hanno Modem Di legno I server Di ultimate Team Fanno Schifo Forse È per questo Che sto Perdendo Ste partite A FIFA E che FIFA Fa Sti Regali Agli Avversari Forse Perché Sa Che Ne parlo Male È Un complotto Contro Di me Nome Doria Non immagino Chi ha In attacco Eh Oddio Non è Portiere Con Pia Pianca Va bene Bruno Pedest Che rompe Sempre Le palle Questo Però Vabbè Ok Adesso Raga Dobbiamo Assolutamente Vincere Sta Partita Sì Vabbè Questo Scatta Martínez Sì Subito Lo scatto Ignorante E I miei difensori Dormono È Assegnato Con Muriel Tagli Griezmann Antonino Griezmann E Tutti Zitti Perché Quando Faccio La Ripattenza Entra Eh Guardalo Lì Con Isco Che Ha Fatto Un Passaggio Perfetto È Griezmann Che L'insacca Lì In attacco Non posso Lamentarmi Sì Vabbè Cioè Dai Chi ha Segnato L'argentone Ci commetto Che è Sa faccia Di cazzo Sare Colombianca Sì Vabbè Ho capito Io ho capito Io ho capito Io ho un cazzo Di Vidal E Che Cazzo Cioè Che non Mi segnava Così Cioè Stavo anche Sbagliando Ragazzi Stavo anche Sbagliando Ah È Nostra Mettiamola Alla in mezzo Vediamo un po' Signori Dalla punizione Come sempre Andiamo a vincere Questa partita Con i gol di Colombianca Il più basso Della squadra Però va bene Così 3 a 3 Ragazzi Eh purtroppo Alcuna Guero Sì Grande Codin Mi raccomando Continua così E vedi che diventi Il miglior difensore Al mondo Vedi che in Fibet 17 Li mettono Ovvero Il 92 Dai Arda Dai Si ha messo Insigne pure Sì Vabbè Oh Principe Oh Principe Oh Principe Napoli Insigne Vabbè Ragazzi La partita Purtroppo È finita 3 a 3 Ci ha segnato Quasi allo scadere E mi sa Che rimarremo In terza divisione Perché non ce la facciamo 12 punti 3 a 3 6 Dovremo vincere Entrambe le partite Quindi vabbè Possiamo vedere Un po' Di provare a vincerle Nel Nel prossimo video Quindi ragazzi Purtroppo È una persa Una pareggiata Non ci è andata Una vabbè Annullata Quella non la contiamo Non ci è andata Come speravamo E purtroppo Abbiamo provato Questa squadra spagnola Abbiamo visto Che non serve Una minchia E quindi Vabbè Credo che il video Posta terminare Qua Se il video Vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Spolliciate E noi ci vediamo Al prossimo video Momento 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 Momento